Il numero di dell'incendio sale a 13 che hanno comportato tre discoteche adiacenti a Mursia. In Spagna meridionale. La partecipazione è iniziata dal club La Fondazione. In un'atmosfera di grande tensione per il massacro. Autorità spagnole la sera non hanno escluso che tra le 15 persone che ancora disperse ci sono 13 vittime i cui corpi già stati trovati dai soccorritori. Exinguido Fire Discoteca a Tlajas Area. Ha seguito trabagliando alla area. U1 DNR Ilunga Dror Bomberos Mursia Octaber 1. 2023 i precedenti di Saragossa e Madrid l'incendio che ha colpito diverse discoteche del distretto. Di Mursia di Lasatalayas è il più fatale registrato in Spagna al momento della tragedia vissuta. Nel 1990 nella discoteca volante a Saragozza. Dove sono morte 43 persone. La più grande tragedia si verificata in una discoteca spagnola invece si è svolto a Madrid il 17. Dicembre 1983. Quando le fiamme hanno devastato i locali dell'Alcala 20 causando la morte di 81 persone. La maggior parte delle quali molto giovane. Questo disastro ha causato una tempesta politica mentre le indagini hanno dimostrato che la catastrofe ha fatto il guasto a L sistema di illuminazione e una porta di sicurezza chiusa ancora più. Gravi. Dopo che il fuoco. La Spagna ha approvato molte regole per aumentare la sicurezza nei locali.